In Abruzzo la crisi morde, al punto da lasciare disoccupati il 42% dei giovani d'aver già perso 54.000 posti di lavoro, d'aver autorizzato, tra gennaio e ottobre di quest'anno, 26.875.532 ore di cassa integrazione. Lo affermano in una nota congiunta i segretari generali della CGL e della Villa Abruzzo, rispettivamente Gianni Di Cesare e Roberto Campo. Numeri osservano che raccontano una situazione pesante che dura ormai da troppi anni, che la giunta regionale deve affrontare con efficacia per evitare che sugli abruzzesi pesi una vasta desertificazione di lavoro e reddito. E deve farlo investendo le poche risorse di cui dispone nei settori a più alta intensità di lavoro ed elaborando un piano straordinario per l'occupazione, stimolando gli investimenti. Tutto ciò senza dimenticare gli errori e l'inefficacia delle politiche nazionali messe in campo dal governo, la loro iniquità e l'attacco ai diritti sociali. Ce n'è quanto basta, concludono di Cesare e Campo, per proclamare uno sciopero generale il 12 dicembre e per chiamare gli abruzzesi a scendere in piazza, a Pescara, dove si svolgerà la manifestazione regionale.